Vai Biancazzurri, debbi del Mariani Pavone tra Pineto e Francavilla al termine di una partita combattuta ed equilibrata, ben giocata da entrambe le compagini. Piervese conferma in blocco la formazione che nel turno infrasettimanale ha pareggiato con l'Avezzano. Amaolo invece è costretto a rinunciare in extremista a Fiumara, così arretra Prezzotti a terzino sinistro ed inserisce Battista e Di Rocco con Bisegna alle spalle di Gragnoli. Il Francavilla approccia meglio la gara nei primi minuti e la squadra di Iervese tiene il baricentro molto basso ed è subito aggressiva sui portatori di palla del Pineto. All'undicesimo sugli sviluppi del corner battuto da Micicè, Youssif di testa spedisce alto. Al quattordicesimo invece è Zerbo ad anticipare la difesa bianca-azzurra ma trova pronta la risposta di Mazzocchetti. La prima occasione per il Pineto al ventiquattresimo sugli sviluppi del calcio dalla bandierina battuto da Bisegna. Pezzotti trova il filtrante che termina di poco a lato mentre alla mezz'ora lo stesso esterno servito da Mariani fa partire un velenoso tiro cross ma all'altezza del secondo palo non ci sono maglie azzurre pronte alla deviazione. Nella parte finale di primo tempo il Francavilla si fa nuovamente pericoloso al quarantunesimo con un calcio di punizione di Zerbo parato da Mazzocchetti e con l'ultimo acuto al quarantatreesimo. Un'azione insistita che porta i francavillesi alla doppia conclusione prima con Micicè murato da Pepe e poi con Mancini che non trova la porta. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa i giallorossi ospiti calano i ritmi rispetto alla prima frazione di gioco. La gara è comunque agonisticamente combattuta e scivola sul filo dell'equilibrio. Al tredicesimo a Maolo opera un doppio cambio. Faria sprende il posto di Gragnoli in avanti e Cercelluti rileva di Rocco. E proprio il neo entrato al sedicesimo si rende autore di un grande affondo sulla destra che porta al vantaggio pinetese. Il cross al centro di Cercelluti viene appoggiato da Farias per Battista che scavalca, spacca e porta in vantaggio i suoi. La risposta del Francavilla non tarda ad arrivare e passa per i piedi del neo entrato Banegas che si gira e fa partire la conclusione al lato. Ancora Banegas al ventiseiesimo scambia con Di Renzo, il tiro cross attraversa tutta l'area e si spegne sul fondo. Passano due minuti e dalla parte opposta Farias raccoglie sulla sinistra, si gira bene ma la spera termina alta. Al trentacinquesimo il Pineto raddoppia, su azione d'angolo di Pezzotti, Mariani stacca di testa per il 2-0 Biancazzurro. I due corrono ad esultare sotto il settore dei propri sostenitori ma proprio in quel frangente L'arbitro sente qualche parola di troppo da parte del numero 20 pinetese ed estrae il rosso diretto all'indirizzo di Pezzotti. Assenza pesante per Amaolo nelle prossime partite e Pineto costretto in dieci nel finale col Francavilla che tenta il tutto per tutto. Il forcing giallorosso però non produce gli effetti sperati. L'ultima occasione è ancora per Banegas in pieno recupero ma Mazzucchetti non si fa sorprendere. Matura così la terza vittoria consecutiva per il Pineto, tre punti d'oro ottenuti contro un Francavilla che vende cara la pelle in un derby bello e agonisticamente combattuto. Così la squadra di Amaolo scavalca proprio i giallorossi in classifica che restano invece a quota 16. Cosa non è andato? Forse perché non abbiamo fatto gol. Perché perdere questa partita penso che sia un po' assurdo perché abbiamo fatto sempre noi la partita. Sicuramente loro sapevamo che davanti erano pericolosi però ecco abbiamo preso due gol che si potevano benissimo evitare. Quando devo dire che la squadra ha fatto secondo me una buonissima partita, ha comandato il gioco, ha creato occasioni. Non abbiamo concretizzato però sinceramente non posso rimproverare nulla ai miei perché ripeto a parte quei due errori su calci piazzati, sul calcio d'angolo che è stato proprio una svista difensiva ma non posso ancora immaginare di aver perso una partita del genere. Meglio sicuramente il Francavilla nel primo tempo, poi invece il Pineto è venuto fuori nella ripresa e forse nel secondo tempo ha meritato di più. Non sono d'accordo, purtroppo non sono d'accordo perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo abbiamo avuto soltanto quei dieci minuti un attimino di alcune ripartenze del Pineto che forse ci ha un po' sorpreso ma poi la mia squadra ha continuato a giocare e a fare la partita. Abbiamo anche nel secondo tempo avuto diverse occasioni davanti alla porta e non siamo riusciti a fare gol. Però ripeto, sul piano del gioco non posso rimproverare nulla, sicuramente se vogliamo crescere queste partite non le puoi perdere mai e quindi sicuramente ci servirà da lezione per il futuro. Una vittoria che vale doppio se non triplo nella terza partita di una settimana e portare via nove punti è una cosa importante. Vorrei fare un'apparenza di dedicare la vittoria a mio figlio che oggi è con biglianni, quindi è lo migliore ci poteva stare. La partita era difficile, sapevamo della forza del Francavila e il campo ha dimostrato questo, quindi ci ha messo in difficoltà. È stata una partita che entrambe le squadre volevano vincere e noi siamo stati bravi a colpire al momento giusto e poi concretizzare la seconda parte della gara. Sicuramente per le occasioni create, perché abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo per chiudere precedentemente la gara, penso che è una vittoria che ci sta tutta. Missera Maolo, erano arrivate alcune critiche nei giorni scorsi, quella di oggi è una vittoria in cui lei, Missera Maolo, ha letto molto molto bene questa partita, soprattutto nel secondo tempo. Sì, era una partita di interpretarla bene tatticamente, dopo i minuti iniziali, dopo che siamo partiti con un modulo, abbiamo cambiato atteggiamento tattico e abbiamo trovato l'equilibrio giusto e siamo riusciti a guadagnare campo, essere aggressivi e ripartire. Così abbiamo fatto una seconda parte della gara, quindi bravi ragazzi che hanno interpretato bene la partita e dobbiamo soltanto continuare a lavorare. Questi risultati ci devono dare ancora convinzione dei nostri mezzi, non abbassare mai la guardia e non guardare la classifica, perché come ho detto sempre, in Serie D il campionato inizia da dicembre in poi e adesso dobbiamo cercare di fare i più punti possibili fino a dicembre e poi si vedrà.